Rimozione documenti inceppati. In caso di documento inceppato, rimuovere i documenti non ancora lavorati. Per l'espulsione indietro tramite la console, occorre rimuovere il tegolino ADF, onde evitare inceppamenti ulteriori. Espellendo il documento in avanti, non è invece necessario rimuovere il tegolino ADF, ma il documento verrà espulso automaticamente dalla procedura. Alternativamente, è possibile estrarre manualmente il documento inceppato, tirandolo con cautela affinché né il lector né il documento subiscano danni.